Gli step sono molto chiari. Prima di tutto noi siamo partiti dall'ascolto dei nostri clienti, quindi da ricerche di mercato sentendo direttamente la voce dei nostri clienti che è la cosa più importante, il punto di partenza di tutto quello che poi deve essere declinato. La seconda cosa è stata una revisione molto attenta dei processi. Perché? Perché l'obiettivo principale è andare verso la semplicità, verso la trasparenza. Il cliente deve avere veramente la facilità di fare le cose in un tempo breve e con estrema facilità. Tutto il lavoro che è derivato da tutto questo è stato basato sulla usabilità, quindi la famosa user experience che sarà la base di tutto quello che stiamo mettendo in piedi converti e assicurazioni. La comunicazione perché per noi prima di tutto è esattamente il pain point, esattamente il punto dove le assicurazioni in tutti questi anni hanno mancato. È molto importante costruire un rapporto diretto con il cliente attraverso un linguaggio semplice, diretto e anche fresco. Quello che abbiamo cercato di fare con il nostro concetto di pionieri è proprio far nascere un'assicurazione molto più diretta e con una comunicazione completamente nuova. E per noi è importante proprio perché, come dicevo, il cliente è sempre al centro di tutto e prima di tutto dobbiamo usare il suo linguaggio. Non si devono loro adeguare al nostro parlando l'assicuratese, ma esattamente il contrario. Il passaggio a tutti i segni di business è stato fatto attraverso, prima di tutto, un allineamento strategico interno. Quindi tutte le funzioni della nostra assicurazione sono assolutamente allineate su quello che è stato identificato come modello di business e come strategia. Tutti i canali tanto diretti, che sono phone, web, aggregatori e retail, quanto quelli intermediati, quindi del mondo automotive, sono assolutamente allineati in quella che è stata definita questa strategia di comunicazione diretta, trasparente con il cliente, ripeto, basata su una usabilità molto chiara e sulla semplicità.